Siamo ormai quasi alla conclusione della diciannovesima edizione dell'infigliore del Corpo Soddomine della San Pianiceto. Abbiamo qui l'ideatore che 19 anni fa, proprio in questo pezzo di strada, che dice un piccolo disegno e da allora è entrata quasi chilometrica l'infigliore di San Pianiceto. Ed è il dottore Peppuccio Doni, che fa parte anche dell'associazione La Fenice, che è il maestro infioratore di San Pianiceto, che magari ora presentiamo uno a uno tutti i componenti, però un giudizio su questa diciannovesima edizione dell'infiorata. Allora, per me l'ultima infiorata a realtà è sempre la più bella, quindi questo è ovvio. E poi le colonne sono tantissime e tutte indispensabili. A cominciare da Stefania Ruggeri, che è tua cugina e che è un'artista che ha realizzato l'apertura, cioè il nostro Corpus Domini, il Cristo e Eucaristia, con un tappeto strepitoso barocco, ovviamente, e poi tutti gli altri. C'è anche Graziella Certo, che ha fatto lo splendido, che ha molta premura, che deve prendere il bel ragazzo. Ha realizzato un bellissimo quadro con il soggetto di Buon Samaritano. Come non incitare un'altra colonna importantissima, Beatrice Calderone, che sta arrivando col suo bambino. E poi ancora c'è Santo Genovese, che ha fatto un inaspettato successone, che ha fatto il Buon Pastore, con una tecnica tutta sua incredibile e bellissima. Chi l'ha vista, l'ha apprezzato e convivite con me. Poi ancora, poi ancora, poi c'è Katia, la mia amica Katia, Katia Rassalacca. Katia! Lei ha realizzato, scusatemi, suggeritemi il figlio al prodigo, un altro quadro eccezionale. Abbiamo voi sia Elisa, Ruggeri, Samantha, con il suo lavoro certosino, di posizionare lo statice, e lei è specializzata. Allora, un escursus su tutti i soci, e poi sono tutti validi maestri infioratori, con la M maiuscola. Poi abbiamo avuto degli ospiti inaspettati, e sono degli amici provenienti dalla Calabria, e sono... Angelica Zocchi e Antonella Fodica, e ringraziamo. Grazie! Il vostro è stato un apporto indispensabile e perfetto. Quindi siamo veramente soddisfatti anche per quest'anno. Grazie, grazie a voi. Una grande famiglia e il gruppo di amici. Una grande famiglia, e dimenticavo di dire che questa grande famiglia sta preparando le valigie, perché fra pochi giorni saremo alla rassegna internazionale di Pietraligure. Io prima volevo fare un passo indietro per ricordare l'enorme successo di 15 giorni fa a noto. A noto, bellissima esperienza. Però, vabbè, lasciamo perdere perché come organizzazione qualcosina è andata... Però vuoi dire che il quadro realizzato da Maestri di Ferrodi di Sant'Inceta... No, ma lì non c'è dubbio. Molto apprezzato, tant'è che abbiamo avuto come likes, quindi gradimento, su Facebook siamo arrivati i secondi, tra tutti dietro i messicani, ma comunque il primo gruppo fra gli italiani. E questo ci fa veramente molto, molto onore, considerato che c'era e c'è la crema dei più blasolati gruppi di infioratori d'Italia, da Gensano, Pietraligure e così via. E nell'invito che hai fatto l'altro giorno, che il nostro salvo italiano ha preso durante i lavori degli infiorati preparativi, ho detto che questa è una tecnica particolare e unica in tutta l'Italia si può dire. Direi al mondo, ma scusate non voglio essere quello che si va a antatea, però almeno questo l'abbiamo noi potuto appurare direttamente uscendo fuori da San Pierniceto. Non so perché tutti ci fanno i complimenti per questo tipo di tecnica, cioè a dire noi utilizziamo sì i vegetali, sia li scegliamo da un punto di vista per la loro peculiarità cromatica, ma anche per quella morfologica, cioè a dire utilizziamo materiali come i carciofi, le araugare intrecciate e così via. Quindi chi osserva i nostri tappeti può benissimo risalire alla varietà vegetale utilizzata. Mentre vediamo in altre tecniche di altri gruppi, i nostri amici, infioratori di tutta l'Italia e del mondo, che sminuzzano, polverizzano garofane e quant'altro, per cui sì, bello però un pochino il piatto c'è. Complimenti. Grazie. A tutti quanti. Grazie a voi. Quindi ora, prossimo appuntamento è Pedro Alivoli. Sicuramente, credo, faremo un bellissimo... Già, si sa cosa, il quadro... Sì, sì, vi dico solo il nome del soggetto, che coincide benissimo con quello che noi proponiamo e facciamo. Faremo la regina di fiori. Avete presente le carte da poker? Sì. La Q è la regina di fiori, quindi meglio di questo... Non vediamo l'ora a vedere almeno le fotografie. Vedrete il risultato, che sarà eccezionale come sempre. Grazie. Chiusa la diciannovesima, già si pensa alla ventesima... Sì, abbiamo dei progetti, però quelli forse troppo presto... Però ricariamo le batterie. Esatto. Grazie dottore Puccio Donia e tutta l'associazione della Felice. Grazie a lei per la disponibilità da sempre. Grazie per la sensibilità nei nostri confronti. Grazie a tutti i maestri, infioratori, sapore, fai un'altra bella inquadratura che meritano a tutti i maestri, a tutti i maestri, a tutti i maestri.